4 alla 1 testa treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione su questo treno è possibile trasportare biciclette la trinitalia eurocity train 308 con generale piazza principale con la scuola gage b con l'arrivo 1451 è arrivata in la scuola gage b con l'arrivo 1451 è arrivata in una scuola gage b con la scuola gage b con l'arrivo 1451 è arrivata in